Alpine è orgogliosa di presentare l'ultimo prodotto Alpine Style, il nuovo sistema audio-video navi realizzato per la Golf 7. Il cuore del sistema è un display touchscreen ad alta risoluzione da ben 9 pollici. Questo display vi stupirà per la qualità delle sue immagini ad alta risoluzione. Il sistema Alpine è collegato direttamente ai comandi al volante originali e il display visualizza il nome delle stazioni radio, il titolo delle canzoni e le chiamate in arrivo. Il sistema è collegato al cambus originale e se si volessero cambiare le impostazioni dell'aria condizionata, le nuove configurazioni compariranno automaticamente sul display Alpine. Il sistema Alpine è compatibile con gli ultimi formati digitali, dalla radio AM-FM alla radio DAB, dal collegamento con chiavi USB a sorgenti HDMI. La tecnologia Bluetooth avanzata con ricerca alfabetica rende ancora più facile fare e ricevere telefonate. Se la vostra Golf 7 ha i sensori di parcheggio, una retrocamera originale e un sistema di parcheggio automatico, potrete continuare a usare queste funzioni con il sistema Alpine. Alpine offre un lettore CD di video opzionale che può essere nascosto dentro il vano porta oggetti. Basta solo inserire un video e apprezzerete l'ottima risoluzione grazie al meraviglioso schermo da 9 pollici, mentre la macchina è ferma. Se si possiede un iPhone o iPod, è possibile collegarli al sistema Alpine usando il cavo USB. Potrete selezionare la musica dalla playlist per artista, album e usare la comoda funzione di ricerca alfabetica. È sufficiente aprire la schermata di configurazione audio per un facile accesso alle funzioni di regolazione. Il sistema Alpine offre anche la correzione temporale digitale e le funzioni di equalizzazione professionali. Alpine include anche il sistema di navigazione più all'avanguardia oggi disponibile, iGo Primo Next Generation. È possibile inserire facilmente la destinazione tramite indirizzo o codice postale utilizzando il touchscreen da 9 pollici. Visualizza mappe in 3D con edifici e punti di riferimento dettagliati per l'orientamento nelle grandi città. L'indicazione di corsia segnala al conducente la corsia migliore in cui rimanere, mentre la guida dinamica TMC fornisce informazioni sul traffico in tempo reale. Il sistema Alpine Style è sicuramente uno dei sistemi più accattivanti mai realizzati per la vostra Golf 7. Prestazioni senza compromessi. Benvenuti nell'Alpine Style. Alpine Driving Mobile Media Innovation